Restituito l'angiografo alla città, per meglio dire, un angiografo top di gamma, come ha detto il professor Bolognese, dopo l'incendio del 16 aprile. Ci sono voluti due anni, ma sono tempi corti in relazione anche al fatto che quest'ingendio ha avuto natura dolosa. E comunque l'apparecchio che oggi viene restituito alla città è un apparecchio, come diceva il professor Bolognese, top di gamma. Ci consente di raggiungere uno standard qualitativo molto più alto. L'azienda ha utilizzato bilancio proprio per acquistare l'angiografo in attesa che si chiudesse l'indagine penale e soprattutto in attesa di un risarcimento che ancora non c'è da parte della compagnia assicuratrice. Quanto è l'investimento? L'investimento è di circa 1 milione e 8 complessivo. Certamente in questi due anni è stata, come dicevo prima, nostra principale preoccupazione cercare di dare ugualmente un livello di prestazione e di servizio tale per cui i pazienti non avessero in ogni caso danno da quello che è accaduto. Questo è stato garantito e quindi dal mio punto di vista io sono assolutamente soddisfatto. Sono stato aiutato in questo e questo ne sono sempre grato. Se tu hai un macchinario che ti consente di avere una vista migliore e quindi una risoluzione migliore ci sono casi complessi in cui è richiesta questa maggiore risoluzione e quindi la possibilità di successo è molto più alta. Quindi da un punto di vista qualitativo si può affrontare ciò che noi sappiamo affrontare e che chiaramente non potevamo fare con delle macchine di più basso livello. Certo, è stata una bella corsa dover fare tutto questo e ringrazio l'azienda perché anche se sembrano tanti due anni in realtà per un'amministrazione pubblica per realizzare qualche cosa ex novo e anche da un punto di vista edile non sono affatto tempi lunghi. Quindi oggi siamo contenti di poter avere questo nuovo servizio per i cittadini.